L'esperienza amministrativa quanto conta oggi per poter ben amministrare un ente pubblico? Rischia di contare sempre meno, la politica diventa sempre più spettacolo, sempre frase ed effetto, meno impegno, meno lavoro quotidiano, anzi spesso e volentieri essere definito un politico di professione diventa un limite, diventa quasi una colpa invece, ahimè, qualsiasi amministratore sa bene che c'è un lavoro dietro, uno studio, un impegno, a volte c'è una vita dedicata al servizio della comunità, quindi iniziative come quelle di oggi sono fondamentali per riscoprire anche una professionalità nella politica che è indispensabile. Non deve mai mancare l'entusiasmo ad esercitare il ruolo di amministratore locale, io dopo tantissimi anni che faccio l'amministratore locale nella mia comunità mantengo ancora un forte entusiasmo, perché senza l'entusiasmo, senza passione questo è un impegno che non si può fare, quello dell'amministratore locale, quello del sindaco è sicuramente quello più gravoso. Grazie. 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 Grazie.